ciao benvenuto e benvenuta questa presentazione innanzitutto io ci tengo a presentarmi sono davide mancuso 36 anni sono di bologna e sono un incaricato indipendente di usher per me è un onore oggi essere qua a presentarti questa opportunità perché sono stato praticamente tra i primi a sposare questo progetto lo ho conosciuto questa azienda esattamente nel settembre 2018 da allora sono passati sette anni e quindi oggi a distanza di sette anni essere qua a dare l'opportunità di conoscere questa azienda per me è davvero un piacere e un onore prima di iniziare ci tengo a darti un piccolo suggerimento il suggerimento di prendere il tuo telefono allontanarlo più possibile da te metterlo con lo schermo verso il basso in modo che non ti possa disturbare e soprattutto che neanche le notifiche ti possa disturbare perché è importante che questi 20 minuti li dedichi solo e soltanto a te e all'informazione perché perché all'interno di questa zoom di questo di questo video tu avrai l'opportunità di prendere delle informazioni che ti permetteranno poi di prendere anche delle scelte che pensa queste scelte a me personalmente sette anni fa mi hanno fatto mi hanno dato l'opportunità di migliorare la mia vita in questi anni e non solo a me e tante altre persone bene partiamo dicendo chi è l'azienda che ha creato tutto questo parliamo della DT socialize holding la DT socialize nasce nel 2017 nel 2020 diventa una holding quindi un gruppo societario nel 2020 nasce anche Ushare che è la società che si occupa della distribuzione dei servizi della DT socialize è un'azienda regolamentata dalla legge 173 del 2005 e è una legge praticamente che è una legge totalmente italiana che si occupa di regolamentare il metodo distributivo che ha sposato questa azienda 2021 DT socialize passa da un srl inglese a una spa inglese 2022 acquisizione di synapse e 2023 lancio di maya l'intelligenza artificiale che a breve vedremo insieme quindi qual è il core business di Ushare è dare servizi tecnologici in anteprima perché in anteprima lo vedremo fra un po quindi in questo caso parliamo di intelligenza artificiale bene questa azienda Ushare è anche regolamentata dall'organismo agente mediatori un registro italiano pubblico dove sono presenti tutte le aziende che fanno queste attività e regolamentati con la legge 173 come dicevo prima e non mi ripeto Ushare LLC come vedete qua in basso e con tutti i dati societari dell'azienda Ushare bene quali sono i membri del gruppo pensate che tutto ciò che vedrete stasera in questa presentazione e tutto ciò che vedrete da qui in poi praticamente nasce da una mente italiana si chiama Daniele Marinelli è il CEO e il fondatore della de-socialized holding che in questi anni ha portato questa società a veramente diventare un gruppo societario veramente importante tanto che come dicevo prima ha integrato nel gruppo Synapsia che è capitanata da Stefano Mancuso il CEO e Sebastiano Galazzo il CTO parliamo di Stefano Mancuso. Stefano Mancuso vanta un bellissimo background nella creazione di aziende tecnologiche e invece Sebastiano Galazzo vanta un ricchissimo background nel mondo dell'intelligenza artificiale sto parlando esattamente di oltre 25 anni nello sviluppo di aziende tecnologiche nel campo dell'intelligenza artificiale ha vinto anche due i tech tre scusate i tech awards ed è da 11 anni un microsoft mvp cosa vuol dire vuol dire praticamente che lui per microsoft è il punto di riferimento nel mondo per la categoria intelligenza artificiale da ben 11 anni quindi capite che è una persona molto di rilievo nel campo dell'intelligenza artificiale. Le sedi delle società sono di TSocialize Holding a Londra, Synapsia a Milano e Ushare per quanto riguarda l'America. La cosa bella di questa attività è che la possiamo svolgere in tutto il mondo. Bene di cosa si occupa Ushare? Ushare come dicevo prima offre un apporto di accesso a tutte quelle opportunità tecnologiche che oggi sentiamo parlare tutti i giorni ma che sono accessibili soltanto a poche persone. Se andiamo a sbirciare scopriamo che di solito sono accessibili soltanto a istituzioni. Di quali di quali opportunità parliamo? Parliamo dell'intelligenza artificiale e del fintech. Cosa sono? Se ci pensiamo bene l'intelligenza artificiale è quella tecnologia di cui sentiamo parlare ormai tutti i giorni, ormai ne parla veramente chiunque. Cosa fa l'intelligenza artificiale oggi permette di risparmiare tantissimo tempo. Ecco perché le aziende stanno sposando l'intelligenza artificiale. Dopo ne vedremo comunque meglio cosa vuol dire. Mentre invece il fintech riguarda tutto ciò che è innovazione tecnologica legata al mondo della finanza. Vi faccio un esempio molto semplice. Oggi tanti di noi utilizzano l'app di home banking su proprio cellulare, anzi ormai è una cosa scontata ma pochi sanno che oggi come oggi stanno uscendo app di home banking che permettono di gestire completamente liberamente i propri portafogli al cento per cento. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi un app di home banking in fintech può arrivare fino a farti comprare, vendere, detenere, scambiare, e convertire anche cripto. Ora se magari per qualcuno questo è un argomento un po' magari che non conosce non ti preoccupare sappi che però oggi come oggi il mondo delle cripto è regolamentato ma soprattutto siamo arrivati dove oggi le banche detengono e comprano cripto tutti i giorni. Quindi il mercato è totalmente cambiato. Quindi perché Ushare? Perché oggi è difficile trarre vantaggio dai nuovi mercati emergenti. Prova a immaginare che ho 36 anni, ho perso l'opportunità di cavalcare internet. Anche se l'ho visto nascere ed ero troppo piccolo per cavalcare internet e quindi giustamente mi sono perso gli anni migliori in cui ovviamente se avessi cavalcato l'inter a quest'ora avrei una situazione diversa giustamente no? E poi abbiamo Facebook. Facebook mi ricordo nel 2012 potevo cavalcare il momento in cui si stava quotando in borsa ma ero convinto ciecamente che Facebook fosse o meglio che il mondo social fosse la solita bolla tanto che non ero molto social in quel periodo. E poi Amazon. Amazon anche lì ero convinto che Amazon fosse una bolla speculativa e non l'ho per niente calcolato i primi anni finché oggi ordino almeno un pacco al giorno. E poi Bitcoin. Diciamo che Bitcoin è praticamente l'esempio dei ultimi cinque anni di opportunità perse. Magari sicuramente anche te hai conosciuto qualcuno che ha perso l'opportunità di Bitcoin e come anch'io. Io ho conosciuto Bitcoin quando valeva 300 euro, non ero convinto, meglio, non mi tornavano delle cose e non l'ho cavalcato. Oggi Bitcoin vale più di 65.000 euro, ma soprattutto è una cripto, una delle più famose, una delle più controllate, tanto che le banche detengono cripto come Bitcoin e quindi ho perso una grandissima opportunità. E perché quindi ho scelto Ushare nel 2018? Per il semplice motivo che Ushare mi ha aiutato a capire quali sono i mercati emergenti e soprattutto mi ha aiutato a cavalcarli. Cosa più importante? È importante cavalcare i mercati. Quindi cosa puoi ottenere con Ushare? Ottieni royalty in proporzione a quanti ricavi vengono generati dall'utilizzo di Maya. Cosa vuol dire? Vuol dire che Maya, come tante app che hai sul cellulare, guadagna, guadagna soldi. Quindi cosa fa? Genera dei ricavi, perfetto, ma come li genera? Da tutte le persone che le hanno. Non solo da te, da tutte le persone che utilizzano Maya. Bene, cosa succede? Se tu fai parte di Ushare hai l'opportunità di guadagnare una parte di questi ricavi. Perché? Perché Maya fa parte di questa holding. Quindi cos'è Maya? Maya è una super intelligenza artificiale. È intelligente, è personalizzata ed è sicura. Perché è intelligente? Molto semplice. Perché Maya all'interno ha un brevetto che si chiama Meister, che permette a Maya di girare la tua richiesta alla migliore intelligenza artificiale che c'è sulla piazza per fare quella tua richiesta. Quindi capite che avrà sempre, e quindi anche tu avrai sempre a disposizione, la miglior intelligenza artificiale per le tue richieste. Personalizzata perché? Perché Maya man mano che la usi ti conosce, ma soprattutto rispetta l'autoprivacy. È sicura. Come fa a fare tutto questo? Semplice. Immagina ad avere i tuoi usi e costumi all'interno di un cassetto privato dove Maya va soltanto ad attingere informazioni quando tu gli fai domande del tipo Maya ho fama e cerca un ristorante. E quindi di conseguenza lei sa che a te piace magari di più la carne che il pesce e non glielo dici neanche e lei ovviamente andrà a cercare per te un ristorante di carne. Quindi ti fa risparmiare tanto tempo. Non fa solo questo, fa anche immagini, fa anche testi, traduzione di testi, trascrizione di vocali. Immaginate che non siete in... non potete ascoltare un vocale. Maya vi permette di leggere questo vocale su un testo e se è magari un'altra lingua ve lo traduce anche in italiano o viceversa in un'altra lingua. Oltre questo la forza della holding ci permette di avere delle convenzioni esclusive dedicate ai soli membri della community. Cosa vuol dire? Vuol dire che la holding ci permette, nel momento in cui facciamo parte di YouShare, di accedere a delle convenzioni esclusive. Quindi nel caso di DTS Money, la nostra app di home banking delle condizioni esclusive, una Mastercard World Elite che è il livello più alto di Mastercard delle carte, servizi volte esclusivi e nel caso di Nova VPN che è un servizio di virtual private network avere un abbonamento gratuito fino a 42 mesi. Nel caso invece di Maya hai un abbonamento gratuito fino a 42 mesi alla versione Pro che ci permette di sbloccare tante funzioni. Vantaggi del cliente quali sono? Semplice, l'opportunità di guadagnare royalty e vantaggi noleggiando le Maya micro units. Le Maya micro units sono praticamente delle micro porzioni dei server dove dentro c'è Maya. Ora l'ho spiegato in una maniera molto semplice ma cerco di arrivare direttamente al nocciolo per spiegare esattamente come funziona. E quindi cosa vuol dire? Hai già capito che possedere quindi più micro porzioni di Maya ti permette di conseguenza di accedere a più royalty perché ogni Maya micro units ti dà delle royalty mensili. Il contratto di noleggio è di 72 mesi e le royalty saranno visibili per te mensilmente. Quindi vuol dire che tu nel momento in cui percepisci, prendi a noleggio le Maya micro units percepisci mensilmente i guadagni da Maya. Parliamo di dati di settore. Bene, è un mercato in pieno sviluppo, in forte crescita ed è il mercato dove avrete già capito ormai in questi giorni, in questi anni se ne parla veramente tanto, è il mercato dove praticamente le big tech in questo momento ci stanno investendo più di tutti. Tanto che, come vedete, la stima di questo mercato è arrivare entro il 2034 a fare oltre 3680 miliardi. Quindi è già un mercato miliardario e sarà un mercato plurimiliardario entro i prossimi anni. Oltre un milione di clienti utilizzano le nostre app, quindi parlo di DTS Money, Nova VPN, Maya e Uapp Anonymous, ma soprattutto questa azienda ci permette non solo di cogliere l'opportunità nel campo dell'intelligenza artificiale, guadagnare dall'intelligenza artificiale, guadagnare in base a quante persone utilizzano l'intelligenza artificiale. È un po' come se voi siete soci, faccio un esempio, di Amazon, è un po' come se voi guadagnate da ogni prodotto che viene venduto da Amazon. Sarebbe interessante? È proprio questo quello di cui vi sto parlando. Non sto parlando ovviamente di Amazon, ma sto parlando in questo caso nel mondo dell'intelligenza artificiale. Bene, quindi questa azienda ha messo a punto anche un'opportunità di business vera e propria dove sei tu a poterti creare anche il tuo business all'interno del business. E proprio per questo motivo hanno disegnato questa opportunità con Claudio Dalloca, che è il direttore commerciale che da oltre 30 anni si occupa proprio della creazione di reti commerciali. Ha creato delle reti commerciali ben più grandi di oltre 100.000 persone. E ecco, la sua esperienza è proprio la prova che è il metodo migliore per divulgare Maya e per darti l'opportunità di creare il tuo business. Tanto che abbiamo Roberto Zani che si occupa della parte del training, network, quindi si occupa proprio di come funziona questo metodo distributivo, parliamo proprio del network marketing, quello legale, certificato alla legge 173 del 2005. E Roberto Zani vanta un bel curriculum da oltre dieci anni nel campo del network marketing, creando reti commerciali ben oltre le 30.000 persone. E Dylan Belotti invece si occupa della parte training, perché lui è veramente un esperto nel campo tech, nel campo delle tecnologie e chi meglio di lui ci può formare su questo ambito. Bene, come funziona questo metodo distributivo? Molto semplice. Tu puoi scegliere se essere un cliente o se essere un collaboratore. La persona che ti ha invitato a vedere questo video ti darà piena libertà di scegliere se essere un cliente o essere un collaboratore. Se sceglierai di essere un cliente potrai guadagnare dai servizi, da Maya, dalle Maya micro units, potrai guadagnare dai servizi erogati in convenzione, ma se decidi anche di essere un collaboratore puoi dar vita praticamente a un'altra entrata. La tua opportunità praticamente di crearti una seconda entrata, un'attività lavorativa, crearti la tua carriera e soprattutto crearti una tua rete commerciale personale con a tua volta circondarti di leader dove praticamente ci sarà questa rete commerciale che ti darà l'opportunità di guadagnare. Come funziona? Puoi creare una rete commerciale con altri collaboratori o con altri clienti. Quindi molto semplice. Ovviamente c'è un metodo ben preciso che insegniamo nei nostri corsi di formazione. Il nostro piano a compensi è un piano a compensi altamente remunerativo, tanto che paga un 15% sul direct bonus, quindi su tutte le vendite dirette effettuate direttamente da te. Paga da un 3% a un 29% ogni volta che tu vai a creare un team di persone e ogni volta che questo team va a crescere funziona per differenze penitoriale. Poi abbiamo da un 10% a un 0,5% sul matching bonus che è praticamente il bonus più ambito dei leader. È il bonus dove praticamente permette ai leader di investire tempo sulle proprie risorse, sulle proprie persone e quindi sui leader di riferimento perché in questo modo andranno a guadagnare. E soprattutto il rank bonus. La cosa bella del rank bonus è che paga una sola volta nella vita. Cosa vuol dire? Vuol dire che il piano carriere è un piano compensi cumulabile, quindi non si resetteranno mai i punti di carriera e quindi di conseguenza tu hai un'opportunità unica di scalare questo rank bonus che va da 40 euro fino ad arrivare a un milione di euro. Come iniziare? Molto semplice. Questa è la tabella con le Maya microunits sulla sinistra, il prezzo del noleggio che si paga una volta soltanto all'inizio e la frequenza di prelievo che si può avere. Facciamo un esempio, quella circondata di verde, la più venduta, 366 Maya microunits. Ho un omaggio regalato dall'azienda di 24 Maya microunits, quindi in totale di 390 Maya microunits pagate soltanto con un noleggio di 3660 euro. Lo pago una volta sola e comprensivo di IVA. Perfetto. Per 72 mesi, quindi per 6 anni, ricevo royalty e il pagamento, io ogni mese vedo le mie royalty, ma il pagamento le posso prelevare trimestralmente. Bene, ora l'unica cosa che ti serve giustamente è capire chi ti può aiutare in tutto questo, perché non sarai mai lasciato da solo, mai lasciato da sola, hai tutto il supporto che ti serve, hai una formazione settimanale di base effettuata dall'azienda, hai una formazione avanzata per quelle persone che decidono di fare di questa attività la loro vita. Vuol dire praticamente che hanno deciso che investendo tempo in questa attività possono ottenere veramente i risultati che vogliono, a cui ambiscono e decidono giustamente di portare la loro attività a un livello successivo. E come possiamo fare questo? Grazie a webinar informativi settimanali. Abbiamo un piano carriera, come dicevo prima, altamente remunerativo. Questi sono tutti i vari livelli di carriera. Si va da un perla, zaffiro, rubino, smeraldo, diamante, diamante blu, diamante verde, diamante viola, diamante rosso, che è la qualifica in cui mi ritrovo io in questo momento, ancora per poco, diamante nero e doppio diamante nero. Come vedete lì sotto c'è un indice per capire qual è il fatturato minimo per raggiungere questa qualifica e ovviamente ci sono altri requisiti minimi per raggiungerlo, perché il bello di questa attività che non si fa da soli, ma si raggiunge aiutando altre persone a crescere. Bene, non mi resta che darti il benvenuto in questa community. Inizia ora, inizia con noi, perché il tuo viaggio inizia da qui. Grazie mille per l'ascolto, buona serata.